Quel buco nel cuore della città a Santa Chiara potrebbe essere colmato da un museo di arte contemporanea. Il comune sta avviando una riflessione sulle possibili conseguenze legali che potrebbe avere lo spostamento di fondi dall'originario progetto del polo museale alla costruzione ex novo o al restauro di un teatro. Il cambiamento di destinazione del finanziamento infatti presuppone atti deliberativi che cambino altri atti deliberativi adottati dalle precedenti amministrazioni. La Giunta Poletto intende chiudere al più presto la partita ma l'ipotesi più accreditate è che i fondi per il museo resteranno per il museo e per il teatro dovranno essere reperiti altri finanziamenti. Il fallimento della ditta incaricata della costruzione del nuovo polo museale Santa Chiara aveva rimesso in discussione l'ipotesi stessa di un nuovo spazio espositivo a Bassano a favore di un nuovo teatro. Incassato dal comune il sì della fondazione Cari Verona all'impiego dei fondi per il nuovo scopo il dibattito era già entrato nel vivo il mese scorso con la presentazione da parte della parrocchia di Santa Maria in Colle di un'offerta di vendita della sala Jacopo da Ponte con tanto di progetto per la realizzazione della nuova sala in attesa che anche la proprietà dell'astra proponesse in maniera analoga un'offerta di vendita al comune accompagnata da un progetto di fattibilità del nuovo teatro. Sul tavolo anche le ipotesi di una nuova struttura nell'area dell'ex ospedale ipotesi per la quale è già pronto un progetto messo a punto alcuni anni fa oppure ancora proprio nell'area di Santa Chiara. nonché il ritorno alla costruzione di un museo dei fondi che dovevano essere dirottati al teatro pregiudichi la realizzazione di una nuova sala in città ma il comune dovrà provvedere altrimenti alla copertura delle spese.